Sindaco Starinieri di questi giorni ha notizia da parte del MEF, il ministro delle economie e delle finanze, che premia il paese di Loreto come uno tra i 500 paesi più virtuosi dell'Italia. Un riconoscimento, ma soprattutto perché amministra per un sindaco la graduatoria del MEF è una certificazione che i conti economici nel nostro comune sono a posto, almeno per il momento. Ho testimonia che con la mia amministrazione, come avevo premesso, si è iniziata a fare la programmazione economica. Ciò permette di avere tutto in chiaro e quindi di programmare, di sapere quali soldi sono in cassa e quale attività si possono fare. Giustamente un riconoscimento per tutti i cittadini, i cittadini di Loreto sono buoni contribuenti, però tutto è stato raggiunto anche grazie alla riorganizzazione degli uffici, soprattutto quelli finanziari e tributari. Ma dico che comunque tutti gli uffici sono a catena, quindi con la riorganizzazione degli uffici addirittura abbiamo aumentato gli uffici, ma i risultati si sono visti. Quindi a chi ha criticato inizialmente purtroppo non ha creduto nella bontà, i risultati sono questi che adesso sono evidenti. Io credo che siccome la classifica viene fatta anche in base ai dati che vengono trasmessi, è mio orgoglio che i nostri uffici possono in ogni momento fornire i dati richiesti dal Ministero e questo indice di un'amministrazione trasparente.